Ciao e benvenuto in questo corso base su Linux. Questo corso è rivolto ai principianti, quindi niente di complicato. Questo corso si dividerà in diverse lezioni che riguardano appunto l'introduzione a Linux, l'installazione di Linux, l'interfaccia utente di Linux, comandi base della shell, la gestione dei pacchetti, utenti e permessi, processi di monitoraggio del sistema, rete e connessione e poi infine l'amministrazione di sistema. Questo corso, che appunto come ho detto è per principianti, ti aiuterà a capire che cos'è Linux, che differenza c'è tra i diversi sistemi operativi, quindi Linux, Mac e Windows. Ti permetterà di capire i comandi base della console, quindi della shell, e perché si usa Linux tramite la shell appunto. Ti basti pensare, questo è soltanto un piccolo esempio, poi lo vedremo ora più avanti, che se tu sei abituato a Windows, accendi il computer e tappagliano l'icone. Se installi Windows Server, ugualmente installi Windows Server, accendi il server e tappagliano tutte le icone. Dentro Linux non è esattamente così, cioè lo puoi fare, ma di default non è così. Accendi il server e tappare la console con il cursore che lampeggia. E lì è finita la storia. Perché appunto la console, la shell di Linux, ti consente di creare, di sviluppare una marea di funzioni, installazioni, settaggi, personalizzazioni, che dentro Windows sono praticamente impensabili. Spero che questo corso comunque ti sia d'aiuto. Se ti piace, se ti sarà utile, lascia un mi piace, un commento se lo ritieni necessario, e se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale. Linux Benedict Torvalds, nata a Delsenke il 28 dicembre del 1969. È uno studioso di informatica, padre sviluppatore della prima versione del nucleo al cuore centrale Kernel, del sistema operativo Linux. La sua creatura è così battezzata dall'assonanza del nome del sistema operativo parente Unix, già presente da diversi anni al momento della nascita di Linux, il nome di battesimo dello stesso Torvalds. Linux è un sistema operativo open source. Il sistema operativo è il software che gestisce direttamente l'hardware e le risorse di un sistema, come CPU, memoria e storage. È il tramite fra le applicazioni e l'hardware, stabilisce tutte le connessioni necessarie fra i vari componenti software e le risorse fisiche che svolgono l'operazione. La maggior parte dei PC in vendita è già equipaggiata con il sistema operativo Windows. Oltre all'acquisto del PC, l'utente acquista anche la licenza e i diritti per poterlo utilizzare. Windows è sicuramente un ottimo sistema operativo e presenta numerosi vantaggi. Innanzitutto, essendo il sistema operativo più diffuso al mondo, questo ha permesso di creare programmi per qualsiasi cosa. Con Windows è quindi semplice trovare software per funzioni molto specifiche che difficilmente trovereste su altri sistemi operativi. Windows è anche il leader indiscusso nel settore gaming. Nessuno è in grado di competere e supportare tantissimi giochi come fa Microsoft. Inoltre, Windows è equipaggiato su PC di fascia alta che quelli di fascia bassa, permettendoci di acquistare un prodotto a basso costo che riporta già l'installazione di Windows 10. Questo è indubbiamente un fattore positivo dal momento che parliamo di un sistema operativo proprietario, cioè fornito con una licenza e con diritti d'uso, quindi non gratuito nel caso di installazione in un secondo momento. Tra i tre sistemi qui analizzati, Windows è però quello più vulnerabile in fatto di virus e malware. Mac OS è sicuramente il sistema più intuitivo dei tre, il più facile da imparare e da utilizzare. Essendo Apple una società che produce sia PC che il relativo sistema operativo, questo ne assicura un'elevata affidabilità. Mac OS è un sistema operativo specifico per alcuni settori, come ad esempio la grafica e l'editing audio-video. Esistono programmi specifici per il Mac, adatti a determinare funzionalità che non hanno uguali sugli altri sistemi operativi. Anche se questo è un discorso più generale all'interno del Mac, quindi hardware e software, il prodotto tende a mantenere il proprio valore più a lungo rispetto a Windows. Questo discorso non lo puoi fare con Linux, in quanto è un software open source. Gli svantaggi del Mac sono che è compatibile con molti meno programmi rispetto a Windows o Linux, e questo potrebbe essere sicuramente un grosso limite. I computer Mac hanno soluzioni hardware meno aggiornate rispetto alla concorrenza, i prodotti, come ben sappiamo, escono con una frequenza minore, di conseguenza montano l'hardware sviluppato in quell'asso di temporale e sono meno soggetti ad aggiornamenti. I computer Mac non hanno tipologie disponibili per fasce basse o medie, è risaputo che il prezzo di un Mac sia molto più alto della concorrenza. In alcuni casi sicuramente il valore è assolutamente giustificato, in altri si finisce per pagare il marchio. Se un utente necessita di un PC per navigare su internet e leggere la posta, conviene spendere 1000€ per un Mac? La risposta definitiva è probabilmente no, anche se ognuno è libero di spendere il proprio denario come meglio crede. Mac OS può essere installato solo su Mac. Lo consideriamo uno svantaggio perché sicuramente questa è una limitazione. Mac OS non è un software open source, aspetto che condivide con Windows. A differenza di Windows e Mac OS è un sistema operativo open source. Questo ha fatto sì che attualmente vi siano moltissime varianti del sistema operativo che sfruttano il kernel. Il fatto di essere un software libero e gratuito lo rende installabile su qualsiasi macchina, senza nessun problema di licenza. Un altro vantaggio di Linux è sicuramente il fatto di essere versatile. Vi sono versioni appositamente progettate per funzionare egregiamente anche su PC datati. Questo è un plus fantastico perché limita di fatto l'oblescenza programmata, dei software che molto spesso subiamo passivamente. Un altro valore aggiunto del software Linux è che è poco conosciuto, ma non per questo meno importante. Stiamo parlando della sicurezza informatica. Molti utenti pensano che un software open source sia meno sicuro di uno commerciale. Nel caso di Linux è vero l'esatto contrario. Questo è possibile grazie all'immensa community che supporta e che è sempre pronta a fixare i bug in caso di necessità. Lo svantaggio principale di Linux è sicuramente il fatto di non supportare alcuni programmi di uso comune, come ad esempio la suite Office, Word, Excel, PowerPoint, eccetera, eccetera. Esistono delle alternative gratuite, ma sono pur sempre copie delle originali. Sempre parlando di programmi può capitare che le alternative free the software più conosciuti siano macchinosi da utilizzare o più difficili da imparare. Seppur questi aspetti siano molto soggettivi, sono comunque da tenere in considerazione. I driver rispetto a Windows e Mac a volte sono più difficili da reperire. La situazione è sicuramente migliorata rispetto a qualche anno fa, grazie alla diffusione maggiore del software, ma siamo ancora lontani dalla piena compatibilità con tutti i dispositivi esterni.